Qui voglio veramente vedere quanto tu sei sincero, tu mi hai detto, non dire niente di sbagliato, stai attento a quello che fai, fai la brava, non andare contro Guenda, perché è tremenda. Quando esco da qua, ci parlo io con lei, farò di tutto per farvi fare pace, perché ho visto che persona sei, sei una bravissima persona, adesso non puoi negare. Guarda che io sono sempre stato super sincero e c'è una mezza verità in quello che dici. No, diciamo, lasciamo le mezze da parte. Ma infatti, guarda, hai smesso di la verità, non la mezza verità. Hai paura di Guenda? No, mi fai parlare, mi lasci parlare? Io ti ho detto, guarda, se vuoi io cerco di mediare questa situazione, perché conoscendoti ho visto che sei una ragazza piacevole. È chiaro che però se poi mi ritrovo in puntata che attacchi me o la mia famiglia, mi ritrovo e mi devo difendere inevitabilmente, capisci? A Mirko, smediatela di darmi sempre la colpa che io attacco. Io poi ti ho detto, guarda, che Guenda è tremenda, perché Guenda è una ragazza. Ho detto, perché Guenda è tremenda. Guenda è una ragazza che ragiona e dice le cose con cognizione di causa. Che ha ragione. Quindi ti ho detto, se tu l'attacchi, che ragiona. Ah, ok. Che ragiona. Quindi se tu l'attacchi sui giornali o in maniera... In che modo io la sto attaccando esattamente? E da un anno i 5 miezi...